Sveglia! È il primo giorno di scuola! Possibile che l'unico figlio contento di andare a scuola l'abbiamo fatto noi. Ma perché tu stai sempre solo? Io sono Sara. Andrea. Più anch'altro sono preoccupato per Daniele. Sarò lui e' piccolo. Tu ti preoccupi sempre troppo per gli altri. Anche tu sei piccolo. Hanno stinto. Mi dispiace. Mamma, non vedo l'ora di metterli, ti giuro. Per questa catena, vedi questi pantaloni. Che gli fanno anche da uomo. E i pensieri tuoi. E ti proteggere per sempre. Perché a me basta che tu sia qui accanto a me. Com'è andato con i pantaloni? Che ha detto Sara? Ti sono piaciuti? Sì. Anche se qualcuno mi ha preso in giro. Vabbè, non è che li devi mettere per forza. Così vincono loro. Così.